Cari fratelli interisti e sorelle interiste e anche tutti gli altri, perché io lo ripeto per l'ennesima volta, sono amico di tutti, o meglio, sono amico di tutti quelli che ci stanno a essere miei amici. Se uno non vuole essere mio amico, faccia lui, o lei, fate voi. Io sono vostro amico comunque. Allora, come vedete, ho messo queste strisce di sopra e di sotto, perché ho pensato che invece di starvi tutte le volte a stressarvi chiedendovi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, mettere un like e un commento, li scrivo qui, ce li avete qui sopra e sotto per tutto il video, così quando vi viene in mente, se vi va, di iscrivervi e fare tutto il resto, lo potete fare. Ho preso spunto, ho visto un altro youtuber che ha fatto questa cosa e l'ho trovata piacevole, così posso cominciare a parlare subito senza star lì a rompervi le scatole con questa cosa, che magari sapete, risapete, strasapete, ma tutte le volte ve lo diciamo, ve lo diciamo, e diventa anche un po', magari, non lo so, un po' fastidioso forse, non lo so, credo, poi ditemi voi. Allora, non vorrei essere stato frainteso, per questo ho deciso di fare questo video, questo pomeriggio. Allora, io stamattina ho fatto un video dove ho esposto quelli che secondo me sono i problemi che hanno poi portato l'Inter a perdere il derby. Però c'è il rischio che qualcuno abbia frainteso. E allora volevo spiegare questa cosa. Praticamente mi sono concentrato soltanto sull'Inter e non ho detto niente sul Milan, tranne in descrizione, nel titolo, qualcosa. Però vorrei dire qualcosa, niente di che, praticamente vorrei fare i miei complimenti al Milan, perché ha approcciato la partita nel modo giusto, è stato, secondo il mio parere, è stato facilitato dalla stanchezza dell'Inter, però intanto l'ha fatto. Ci si è messo di impegno, hanno lottato fino alla fine, per usare un modo di dire della Juventus, ma voglio dire, la Juventus ha preso da un modo di dire comune, non è che ci sono inventati qualcosa. Hanno lottato fino alla fine e lottato fino alla fine, poi magari c'è stato quello erroruccio, un errore un po' grandicello di Inzaghi nel togliere bastoni, secondo me, secondo me. E quindi poi alla fine sono arrivati a portarsi a casa il derby. Buono per loro, mi fa piacere per loro, per alcuni di loro, quegli youtuber onesti, simpatici, coerenti, che non hanno mai mancato addirittura, youtuber milanisti intendo, che non hanno addirittura mai mancato anche di schierarsi dalla parte dell'Inter quando veniva ingiustamente attaccata. E quindi mi consolo, per la sconfitta di ieri mi consolo pensando che almeno questi simpatici sono contenti, buon per loro. Però non vorrei che fosse passato il messaggio che ho qualcosa da ridire contro l'Inter. Io l'ho detto specificamente che non accuso l'Inter di niente. Poi dopo ho parlato dei cambi che ha effettuato Inzaghi. Ed è lì che probabilmente qualcuno potrebbe anche essere, aver frainteso. Io non ho niente contro Inzaghi. Inzaghi è un genio del calcio per quel che mi riguarda. Ieri sera ha commesso, secondo me, un errore, un errore quello che praticamente lo ripeto un attimo, non tanto di togliere Cialanoglu perché era ammonito e sappiamo come ragiona lui in base riguardo alle ammunizioni, ma quello di togliere Barella e soprattutto Bastoni. Barella perché? Perché Barella magari non stava andando bene ieri sera, però è comunque uno spauracchio per gli avversari. È una figura carismatica che serve anche per fare da diga alle incursioni dei centrocampisti del Milan e anche degli attaccanti. Lui fa da diga. Fa da diga e in più fa un po' di paura agli avversari. Quindi magari toglierlo non è stata tutta questa gran mossa, anche perché al suo posto c'è andato Fratesi, che Fratesi, come ho già espresso il mio parere altre volte. Fratesi è bravo come incursore, è bravo, sa cavarci le castagne dal fuoco tante volte, però non è Barella. E comunque anche negli avversari non incute lo stesso timore di Barella. Ma soprattutto l'errore grande, secondo me, è stato quello di togliere Bastoni perché Bastoni, altro che diga, Bastoni sì che è una diga, una vera diga, che da quella parte non si passa. E da quella parte, togliendo lui, è passato Gabbia e ci ha fatto quel gol di testa, di testa, che magari se forse l'avesse fatto di piede può darsi che magari avrebbe anche, diciamo, scartato Bastoni, l'avrebbe magari potuto aggirare, ma di testa, con un bastoni lì che ti marca, io trovo abbastanza improbabile che Gabbia sarebbe arrivato a colpire di testa quella palla con cui poi ha fatto gol. Ma questa è l'unica cosa che ho da ridire su Inzaghi. Inzaghi ha fatto quello che doveva, quello che poteva anche, perché gli allenatori hanno sott'occhio, i calciatori vedono come sono messi. Ho sentito dire magari che Bissek poteva giocare Bissek che era in forma. Non era in forma probabilmente perché ha giocato anche lui mercoledì. O no? Sì, ha giocato. E quindi, o forse, no, non mi ricordo, o non mi ricordo mica. Ha giocato Bissek? Mi sembra di sì. Ditemi voi, forse mi ricordo male. Comunque se Inzaghi non l'ha fatto giocare, probabilmente non l'ha visto quagliante per inventarmi un termine. Mi piace inventare i termini. A proposito, qui, se siete preoccupati per la mia salute, questo qui è un taglietto della barba. Non mi era mai successo in vita mia di tagliarmi lì. Però, stavolta è successo. Non preoccupatevi per la mia salute. Sto bene. Magari, se vedete che sanguino, ditemelo. Ditemelo. Ok. Dai, si fa per scherzare. Allora, praticamente l'Inter è sempre l'Inter. C'è stato questo intoppo, questo inciampo, questo inciampo, causato anche, ripeto il mio parere, causato soprattutto, no, anche, causato soprattutto dal calendario. Però è un inciampo. Adesso, conoscendo Inzaghi, lui è molto bravo, è molto bravo a guardare, a riflettere sulle mosse fatte e migliorarsi e correggere gli errori. Se di errori si è trattato, io non sono sicuro che siano errori. Come ho detto nel video di stamattina, per me è andata come doveva andare, vista la stanchezza dei giocatori. Poi qualcuno dice, ma non tutti, non hanno giocato soltanto quelli che hanno giocato mercoledì, hanno giocato anche degli altri. Sì, chi? Di Marco, che era infortunato e si doveva riprendere. Comunque, in ogni caso, le seconde linee, chiamiamole così, perché mi sembra il caso di chiamarli così. Le seconde linee non sono come le prime linee, ragazzi. Quindi, noi non abbiamo due squadre, non ce le abbiamo, è ora di smetterla di dire questa cosa, non le abbiamo due squadre. Abbiamo una squadra e una squadra con degli ottimi rinforzi, ma non sono una seconda squadra. E quando questa prima squadra non va, non funziona bene come dovrebbe, la seconda non riesce a sopperire. Quindi, smettiamo di raccontarci la favoletta che abbiamo due squadre, o smettiamo di ascoltare, o meglio, per meglio dire, la favoletta che ci raccontano i media, che abbiamo due squadre, l'Inter potrebbe giocare in due campionati o cose del genere. No. L'Inter può giocare in questo e viene regolarmente tartassata da calendari, media e tutto quello che è, per cui noi ci ritroviamo nella condizione di dover lottare più strenuamente degli altri. Io credo che questo Inzaghi, dal genio del calcio che è, l'abbia capito, e adesso vi porrà rimedio. Quindi questo Inciampo di ieri sera, io lo considero un Inciampo. Se dovesse succedere altre dieci volte, venti volte, allora no, allora no, allora non è più un Inciampo, è proprio una tendenza, un calo totale, un crollo totale, come è successo al Napoli l'anno scorso, e allora ne prenderemo atto. Ma l'Inter rimane l'Inter. Inzaghi rimane Inzaghi. Se poi dopo i giocatori sono stanchi o non ce la fanno, o anche mentalmente sono provati, Inzaghi, più che dirgli di fare le cose, non può fare. E i giocatori, più che cercare di farle, non possono fare. Poi vediamo, vediamo, vediamo. Perché io sono fiducioso. Per me quello è stato solo un Inciampo, un momento veramente terribile, un momento veramente terribile. Si era già visto qualcosa col Monza. Però lì c'erano svariate seconde linee, la cosa è passata un po' inosservata forse. Forse qualcuno l'ha osservata. Però basta. Adesso quello è un capitolo chiuso. Andiamo avanti. Finito lì. E soprattutto mi voglio rivolgere a youtuberi interisti che se la prendono con Inzaghi. Ragazzi, Inzaghi ci ha portato dove siamo. È lui che l'ha fatto. Non la squadra. È lui. La squadra ha collaborato. Ma ha collaborato nel senso che è riuscita a fare quello che lui chiedeva di fare. Ma è Inzaghi, ragazzi, quello bravo. È Inzaghi il nostro fuoriclasse. Il nostro Mbappé è Inzaghi. Ok? Poi ci sono i vari Lautaro, però anche Lautaro non sta segnando. Quindi, se l'Inter riesce ad andare avanti nonostante queste cose, vuol dire che il campione in carica è Inzaghi. Gli altri aiutano. Certo, fanno il loro dovere. Inzaghi è modesto. Attribuisce spessissimo il merito ai suoi giocatori, che sono stati bravi. Ma sono stati bravi a fare quello che dice lui. Quindi, ragazzi, prima di prenderla con Inzaghi, pensateci bene. Pensateci bene perché non è proprio il caso. Inzaghi è il nostro fuoriclasse. E quelli che fino a mercoledì scorso l'hanno incensato e che oggi lo screditano, sarebbe meglio che non lo facessero. Non voglio dire altro perché non voglio dire brutte robe, robe cattive. Non fatelo. Inzaghi è Inzaghi, ragazzi. Ha dato lezioni di calcio a tutti nel mondo. A tutti. Compreso Guardiola. Quindi abbiamo la fortuna di averlo noi, ragazzi. C'è capitato a noi. A noi. E vogliamo screditarlo perché abbiamo perso un derby? Su sette? Uno su sette? Gli altri li abbiamo vinti tutti. Nessun pareggio? Stravinti tutti, anzi. Li abbiamo stravinti tutti e adesso volete mettere in croce Inzaghi perché abbiamo perso ieri sera. Dopo quella settimana orribilis che abbiamo avuto a livello di stress psicofisico, non orribilis per i risultati. Rivello psicofisico è stato un massacro questa settimana. Riconosceteglielo e per favore, per favore, non mettetevi a dare contro Inzaghi perché poi va a finire che mi ci metto io contro di voi. Anch'io. Ovvio che anche già qualcuno si è inalberato. No, no. Non faccio niente di pericoloso o di volgare. No, no. Però diciamo che non vi approvo. Ecco. Pubblicamente. Adesso non faccio nomi. No, forse non li farò neanche dopo. Ma forse sì. Chi lo sa. Chi lo sa. Absoluto Brutel. Oh, Forza Inter. E non pensiamo più a ieri sera. Ieri sera è stato un episodio buon per i milanisti che se lo sono meritato. Hanno meritato. Niente da dire. Noi eravamo stanchi però loro hanno fatto il loro. Hanno fatto il loro dovere. Hanno fatto tutto quello che potevano fare. Si sono impegnati. Cosa che dall'inizio del campionato ancora non avevano fatto. Buon per i milanisti che sono contenti di vederli così vogliosi, bramosi di vittoria. Non so se questa cosa continuerà anche nelle prossime partite o se è stato un exploit dovuto al fatto che si trattava del derby. È probabile. Io penso più a questo. Che sia più questo che altro. Poi non lo so. Magari la vittoria che loro hanno avuto ieri sera contro di noi può dargli lo stimolo come a noi lo diede pur essendo una sconfitta la prima partita contro il Manchester City nella finale di Champions League. Non lo so. Ragazzi, io vi ho detto anche negli altri video il Milan non va sottovalutato mai. Neanche adesso che è in difficoltà. Che è in grande difficoltà. Ve l'ho detto ieri. Ieri. Neanche sottovalutare il Milan. Perché quello è il Milan. E ieri sera l'ha dimostrato. Absolute burdel e burdelli. Ah, a proposito. Giusto. Giusto. Mi era stato chiesto di spiegare burdel e burdelli. Allora, bambino in dialetto forlivese si dice in due modi. Uno di quei due modi è burdel. Burdel. Con la E spalancata. Burdel. Il plurale di burdel è burdel. con due L. Burdel. Ok? Burdelli. Bambina si dice burdel. Il plurale è burdelli. Quindi absolute burdel e burdelli. Vi saluto bambini e bambine. Ma questo bambini è per estensione. Si può estendere a tutte le età. Qualunque età. Anche uno che ha 120 anni. Per i suoi amici è un burdel. E chi burdel? E quei ragazzi, capito? Ragazzo, ragazza. Capito? Spero. Se non avete capito, ditemi dove e ve lo rispiegherò nel prossimo video. Absolute burdel e burdelli. Ciao. Piccola appendice. C'era Bissek. C'era, c'era. Quindi anche lui era probabilmente stanco. Inzaghi lo deve aver notato e non l'ha fatto entrare ieri sera. Questo per rispondere a quel tifoso che mi ha detto che poteva far giocare Bissek che è in forma. Probabilmente non lo era poi così tanto. Io penso che se fosse stato in forma lo avrebbe fatto entrare. Soprattutto vedendo che Pavard si è fatto sfuggire Pulisic. Quindi non doveva essere proprio in gran forma Pavard. Però fine dell'appendice. Ciao burdel! E burdelli, e burdelli.